Se segui la mia Weekend League in live e mi cerchi per doverti giocare anche tua madre e anche tuo padre Sei un coglione, sei un gran coglione Battere me su FIFA non renderà la tua vita migliore purtroppo, mi dispiace Forse ti darà quella gioia, ma non la renderà migliore Detto questo, possiamo cominciare con la Weekend League The Golden Pirate Azzì, non mi pare Itas, mi pare Broca in la squadra Diego Carlos Etermilitao, attenzione È inutile che cerchi, poi me trovi, e poi ricerchi, e poi me ritrovi E poi, porco Dio, spero che ti esplode casa, te qua, play de merda Eh no Azzì, ma posso piangere da Ducure de sinistro? Ma che sta succedendo a sto gioco? Dammi sto pallone, dai, andiamo a vincere, boys Tocca a Nassapia sto gol 2, boys Lats, boys Zanuarisa Mamma mia, Zanuarisa se me lo addrizzi E ogni tanto ti ricordi che costi 10 milioni, però Eh insomma Eh insomma È quel gol, è quel mio parane che guarda la situazione da lontano Sperando che tutto vada per il meglio Tocca a giocare pure i supplementari Ho mandato un fuorigioco? Ah no, è regolare Ok Dopo questa partita farò una cosa che andava fatta da tempi Che non ho mai avuto il coraggio di fare Next! Qua c'è solo una persona in vantaggio di questo team C'è solo una persona in vantaggio di questo team Mo' ragionamo Non lo voglio più vedere Non lo voglio più vedere Mettici Pippo Questo gioco mi fa venire voglia di infilarmi il pad in gola Pippo sarà mille x I don't care Ma rimetti sti bronzi per l'amore di Dio Vai 16-6 Let's go FC Non ho capito Sono pronto a ricevere un'altra sconfitta Ormai sto carico oggi Bello Ma questo è forte rega 1-1 Zano Arisa 1-1 Urlo del Sium Mi adopero anche in questo statuto Dice Arisa Dopo Sanremo anche qua Insomma Next! Si vola Finiamo questa VL come Dio comanda Lo sai chi devi mettere al centrocampo Cioppolo? Cioè devi mettere sto grandissimo cazzo De sto gioco de merda Ah Messi rosso Grande Pippo Vierà No io vierà 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 Io ti devo vedere Mamma mia mamma mia Oddio oggi stiamo rischiando Next! Prossimo game Ma mettevi di come Chi è quell'attaccante Gioca nella squadra Che c'ho lo stemma io Chi è? Ah si 0-5 Si Questo 0-5 C'ha le manine precise Le manine quelle là Che prendono tutto il pad E gioca in ottobus a FIFA Deviatissima ragazzi 10 milioni avranno deviata Dai l'avranno deviata Anzi 10 milioni e 4 Anzi questa se vince I don't care Vola nei marigno Vola Ma mia sto con Comodino Porco Dio Se me do Dove stai a fare Ma vacanzina Regà dove? Dai a Cruif Cruif Fate vedere Ciao Ciao Ah Si è fatto vedersi Ci ha messo un quarto d'ora A capire dove era la situazione Stava più de là Che de qua Arisa Ma è Sadio? Par Ninja Ah Se Oro 2 Forse ci arriviamo Oro 2 Porca putana Pippo Vabbè Praticamente Userebio Dai Nooo E insomma E insomma Chi è che te segna? Te segna Gainz Te segna Ragazzi Ma no Ma fatemi gli sti scatti In fuori gioco Vai Pippo Becchia ballerina di Pippo Ripeto Vai Cruif Oh bevi a butti dentro Eeeh Eh no Gainz Gainz Chi è? Arcolonia gioca Se Gainz gioca Arcolonia Sarà un giocatore bello profumato Regà Cioè io non mi faccio la doccia da 6 giorni Cioè Azzito Io c'ho il muschio Porca puttana Muschio selvaggio E buttalo Larisa Buttalo Lizza Marisa Quitti Quitti Ruben Quitti E questo è record 17-8 Azzì ma neanche Neanche due anni fa su YouTube Facevo questi risultati Mica male Bravo Zaz Se vede che sei migliorato Sei proprio diventato L'e-sports player Preferito Dalla tua Dai tuoi Dai tuoi ragazzi Next Allora oro 2 preso Ma adesso L'unica cosa che dobbiamo andare a prendere È quel dannato oro 1 Vai si vola Eusebio baby Dopo che l'ho scartato Ma lo sai che vendetta Che c'ha in corpo No azzì Questo qua gioca Gioca con cdc Socrates Gioca con il dottore cdc 46 di difesa Oh buono sto 70 di velocità Non è male sto 70 di velocità De Neymar Quando glielo hanno cambiato Vedo Pippo che sca... Mamma mia patrì 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 Abìì E la madonna Esci What you say E il secondo Puck Dammi Dammi sto cazzo No azzì No no Io non ce la posso farsi Patrizio Vivo Ippo 10 milioni e 4 Mamma mia Mi devo asciugare Sudore Mi devo asciugare 10 milioni e 4 Sì Hai visto come slittano Sì Sto a giocare a balto Ah sì ma mi scatti lì Ma fammi dritto Ma che fai Mentre fermi Ma come cazzo ragioni Ma tirate prima Porco Dio Baby Pippo Next Zanopalo Zanopippo Zanomanè Corri deve prendere il pallone Il Ferdinand Baby contro De Me Non devi riferire Cazzo De Vive Deve piare il pallone Deve piare Vive per il pallone I mortacci sua Porco La vendetta è completa Pogliata Eh certo Vai noi Facce Porco Dio Mi ha fatto il 360 Bodeng mi ha fatto Zì Madre de Dio Spuerco de Dio Spuerco Ma posso pia un pallone Per l'amore di Gesù Cristo Anzi c'è sto Arnold Che mi ha rotto il cazzo Zì È la versione 99 Starei pensando a chi darla Ma non credo che la darò Perché tanto porco Dio Stanno tutti fermi Come coglioni Tocca a fare i cambi boys Quei cambi che lo boostano Il game Tocca a fare Guan Manuel Iturbe Al posto De Neymar Ben Yedder Al posto De Pippo E lo zanone Al posto De Mané Vai Insomma Ok 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 Per i rigori serve canzoni Che te concentrano Se ci arriviamo Uuuu Zanuarisa Ma sono a fisarmonica adesso Devo portarmi a casa Il mio oro 1 Ah melina per l'oro 1 Melina per l'oro 1 Grandissimo Piedad di fisico Oh Azz Ah Stupido Godo Next Anzi 18-8 Mica male Ma si i premi fanno caccare Che mi frega Che è sta squadra No un altro Ferdinand Quavo Verona Grazie a tesimo Ma che è Ma che fa la mia squadra Partiamo bene Igone Ma no Più a Porco Dio Sano Perché lui è un eroe Perché lui è un eroe Che tra yarda è un Mongolfiera Perché Sei incoerente Sano Incoerente 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 di merda Vedi che ti va bene Quando ti pare Allora però Situazione Andiamo a prenderci Quest'ora 1 Per Quavo Verona Vai Quavo Orco Dio Oggi sto ricogliorando Come la merda Chi è? Accivicchia Non ne posso più E non ne posso più Ma basta Cos'è questo Itas Simulator Itas League Non ce la faccio più Non ce la faccio Vi prego Ma sniperatemi Quando devo fa 30 Non quando sto 22 8 Vedi magari 19 8 E ci si diverte Brother E ci si flya E ci si flya In questa VL Io devo fare ora 1 Che mi deve apri Pachizzano Perché se no Impazzisco Dopo una collaborazione Con gli A Ci voleva proprio Una VL così Patrizio Bastardo Si levede Azio corri Non ti fermi Che cosa fai? Corri Cioè come ha fatto a passare Come ha fatto a pararla Nei marigno Ma con che voce mi è uscito? Cioè te puoi fargli un altro Bomba la pippo La bombiola passi Va bene Va bene Va bene Va bene Vabbè vabbè Un try a Van Basten Nel primo momento Non glielo dai Guarda Adesso passo Io lo do purebbo A Baresi Pippo Pippo La butta dentro Pippo Sto tutto faz Ma sto anche tutto Pippo Si è perso il pallone Io ho fatto fallo Bravo Arisa Bra Ma bravissimo Tocca a fare i cambi I turbi al posto De Neymar Bentornati boys E benvenuti ora Mi dovete dire Perché gioca da FIFA però I turbi Ottimo lo stop Palla per il ninja L'asse che scoppia Ancora palla per i turbi I turbi ancora lì Ha palla dentro per Zanarisa Che non fallirà mai da qui Non fallisce I turbi subito Crea l'asse vincente L'allenatore lo sapeva Quando l'ha messo in campo Che è in grado di fare queste robe Bravissimo Veramente un giocatore Di proporzioni elevate Guammano e i turbi Atal Vedi Arisa E Zanarisa La chiude così Prima di prendere il volo Voleva salutare lo Zanone Come si deve Lo prova No Guammano No me l'avevi fatto Me l'avevi fatto Guammano Ce l'avevamo fatta Aspetta Aspetta Carolo Landa Complimenti Zanone Anche oggi Ti sei preso questo risultato Incredibile 20 win Oro 1 raggiunto Mancano 2 game Adesso è il momento Per sniperarmi Così vi regalo io i game Io faccio Sesso con Zanbrotta mid Vai segnami C A C A C A C E Sì Posso aggiardarmi a dire una cosa Che questo sarà sicuramente L'episodio più divertente Della Weekend League Del mio canale Questo sarà assolutamente Il migliore Fida te L'episodio più divertente